Siamo con Enrico Gonzo, tecnico delle Breganze, al capannino finisce 8 a 1 per il Follonica, una partita difficile, insomma era da mettere in conto. Cosa rimane di questa serata, di questa partita? Rimane la consapevolezza che il nostro percorso è tutto in salita, che sapevamo che affrontavamo una big del campionato e lo vediamo dalla classifica e dalle giocate. In questo momento il Follonica è molto in forma, è partito a mille, noi abbiamo subito il colpo, abbiamo reagito piano piano ma abbiamo un po' perso la fiducia sui nostri mezzi, poi secondo tempo un po' meglio, però in una pista così è difficile tenere a bada le armi da fuoco del Follonica che è diretto veramente bene da Silva e è una squadra che veramente ha tutti gli effettivi che entrano e lasciano il segno, quindi non si può mai rifiattare un attimo. Ma ha detto giustamente una squadra che sta attraversando davvero un momento di grande forma. Sì, veramente bene gli ultimi risultati, la Coppa Italia, noi come sempre ci proviamo, sappiamo che abbiamo altre cinque partite per cercare di raccumulare più ponti possibili per provare a salvarsi e fino a che la matematica non ci dirà che siamo retrocessi, ci proveremo sempre, magari con un piglio un po' in più, dalla partita di stasera possiamo ricavare, dobbiamo ricavare delle sensazioni positive che ci servono per lavorare ancora questa settimana. Onore al Breganze che anche stasera ce l'ha messa tutta e ha cercato in tutti i modi di tenere testa a questa Follonica. Sì, non è stata una prestazione delle ultime, delle più belle, però abbiamo il dovere di provarci, di onorare questo campionato e abbiamo i nostri ragazzi. C'è l'Alfa e L'Onica che è una società che ha iniziato questo percorso qualche anno fa e noi lo abbiamo iniziato quest'anno, stiamo un po' pagando pegno di questa scelta, però ci crediamo, crediamo nei nostri giovani, crediamo nel nostro lavoro. La nostra prima squadra è fatta principalmente di giovani di Breganze, il nostro vivaio è una storia che dura 60 anni ed è in testa alle tutte le categorie giovanili e quindi continuiamo e lavoriamo su questa strada. Sergio Silva, tecnico di Galileo Follonica, finisce 8 a 1 per la tua squadra. In pre-partita avevamo detto se il Follonica vince fa il suo dovere, se non vince il Follonica ha fatto il suo dovere. Assolutamente sì, abbiamo avuto l'atteggiamento giusto in queste partite dove eravamo chiaramente favoriti, abbiamo giocato e entrato molto bene in partita e penso che poi abbiamo controllato quasi tutta la partita, abbiamo giocato tutti, anche con dei movimenti, dei giocati importanti. Sono contento della prestazione dei ragazzi. I ragazzi hanno risposto bene, doppietta per Zerze e Cabella, per Oscar Bonarelli, insomma c'è stato spazio davvero un po' per tutti stasera. Sì, come è giusto che sia, e hanno fatto il suo dovere. Chiaramente se poi si deve ancora migliorare, loro devono fare ancora di più, fare ancora meglio, però io sono contento. una prestazione, non dico perfetta, però una partita che l'abbiamo trasformata noi facile, con l'atteggiamento giusto e con una partita importante e giocata bene. Proiettiamoci al prossimo turno, a Bassano, un scontro importante per una posizione play-off. Noi vogliamo arrivare più alti e sicuramente bisogna andare a Bassano per fare punti. non sarà facile, Bassano è sopra di noi in classifico, quindi è molto complicato, però penso che noi abbiamo la possibilità di andare lì e portare a casa i punti. Se giochiamo come stiamo facendo in questo periodo, è da un periodo che giochiamo bene, i risultati arrivano, io sono contento. Grazie.